Aurora mi chiede Qual è l'uomo che non sono proprio riuscita a sedurre? È una domanda molto difficile, anche perché devo pensare a tutto il mio passato. In realtà non ho avuto molte sconfitte, devo ammetterlo. Posso anche dire che una volta era più difficile, però, individuare l'uomo giusto da corteggiare, perché nessuno denunciava magari di non amare le donne, ma di amare qualcos'altro. Bisognava intuirlo, bisognava essere molto intelligenti. Ora è più facile andare a colpo sicuro.